Tu, tu sei l'angelo di Bobby, venuto a salvarci. Niente qua è più salvo, almeno non qui. Sei nella casa di Katnapangelo, la loro casa. Un milione di paia di occhi sono attorno a te adesso, guardandoti, aspettandoti, affamati. Non voglio niente di più che penetrarti nella tua pelle e mangiarti pezzo per pezzo, finché non si sentono pieni al loro interno. Quella cosa? Katnap! Il prototipo è il suo dio e questo è quello che ha fatto con gli eretici. Quei piccoli giocattoli seguono Katnap per non fare la stessa fine. E come ricompensa vengono sfamati. Abbiamo provato a lottarlo, il prototipo ha il controllo. Sono l'ultimo degli Smiling Critters. Ascoltami, te ne devi andare da questo posto. Devi vivere. Tu e Bobby potrete aggiustare questo. Questa follia, questo tormento, questo. Oh no! Oh no! Lasciami, per favore! Vai e basta! Corri! Grazie a tutti!